Paolo Franceschetti Le religioni Paolo Franceschetti Narcissus.me Studiare religione dovrebbe quindi significare studiare la scienza dello spirito, con l'ulteriore risultato che una persona religiosa dovrebbe essere ovviamente una persona spirituale e che un approccio religioso alla vita dovrebbe significare un approccio spirituale ad essa. Se non che nella realtà non è proprio così e i due termini assumono significati purtroppo molto differenti quando non addirittura del tutto opposti. La religione diventa spesso un insieme di regole, dogmi e credenze che allontanano da Dio e fanno precipitare l'uomo nel materialismo e nell'aderenza alle forme. Ed è per questo che persone molto spirituali spesso non si riconoscono in una religione particolare perché non trovano in essa le risposte a quelle domande dello spirito che stanno cercando. Si può quindi essere religiosi ma non spirituali e si può essere profondamente spirituali senza aderire ad alcuna religione. Commento Infatti, si può essere spirituali sentendo la religione del futuro evolutivo dell'umanità che è la religione della coscienza. Grazie 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 Grazie